bentornati sul canale bentornati sul canale anzi dovremmo dire partite roberto perché perché oggi festeggia 85 anni bruno pizzul lo conoscete tutti mi spiace per chi di voi non ha mai potuto seguire le telecronache del grande bruno pizzul erede di nando martellini alla rai chiaramente erano tempi in cui ancora non non debordavano le tv le gare in tv erano molto molto ristrette quindi si seguiva la nazionale fondamentalmente e le e le coppe europee e la coppa italia ma ma non quanto oggi tante parti di coppa italia anche anche a fine anni 90 inizia 2000 non andavano non andavano sempre sempre in onda ricordo ad esempio uno juventus inter che non andò in onda si seguiva per radio e poi magari la mattina successiva e per parlare di di bruno pizzul per festeggiare il suo 85esimo compleanno chiaramente è stato un po intervistato da diverse parti in particolare da radio rai 1 in un giorno da pecora e colgo l'occasione per affrontare con voi un discorso relativo alle telecronache tv perché diciamo che nel corso degli anni io sono un classi 80 quindi ricordo molto molto pizzul soprattutto pizzul precedentemente ho recuperato chiaramente le telecronache un po delle delle partite precedenti con martellini altri erano molto 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 compassati diciamo che bruno pizzul secondo me ha raggiunto l'equilibrio perfetto non era troppo compassato nella propria telecronaca sapeva si esaltava ma sapeva esaltarsi al momento corretto raccontava l'evento sportivo accompagnava l'evento sportivo e gli dava quel tocco di qualità di competenza e anche di sentimento in più che coinvolgeva lo spettatore quindi non era né soporifero come il vecchio i come i vecchi telecronisti che veramente erano per gli standard anche del del calcio dello sport del calcio molto 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 lenti e non era nemmeno lo strillone di oggi perché oggi siamo arrivati a livelli secondo me eccessivi qualcuno si salva devo essere onesto qualcuno della della vecchia scuola ancora si salva anche qualche giovane riesce secondo me interpretare al meglio il mo il l'attimo il momento troppo spesso troviamo veramente gli strilloni quelli che urlano in qualunque situazione in qualunque sia tipo di partita altro giorno seguivo wolfsburg eintracht di francoforte se non erro urla sgraziate adesso non me ne voglia il telecronista di eintracht di wolfsburg eintracht non ce l'ho assolutamente con lui era solo per fare un esempio e devo dire che si è eccessivi e questo questo trasporto eccessivo quasi come a voler vendere il prodotto più che raccontare l'evento mi è spiegato molto bene allo stesso pizzolo in questa intervista infatti dice i telecronisti di oggi sono tutti bravi non è serio fare dei confronti perché questo lavoro è ben diverso da quello dei miei tempi anche la velocità del gioco tutta una serie di eventi contingenze è cambiato ha ragione oggi i telecronisti si illustrano di più quando sono in studio dove sono tutti degli attori e dei raccontatori di storie quando fanno le telecrona che poi sono bravi certo ma parlano un po troppo anche i miei tempi si dicevano ci dicevano di parlare poco figuriamoci oggi c'è il telecronista c'è una persona che lo affianca ed inevitabilmente c'è una ridondanza lessicale che può anche apparire eccessiva anzi mi addormento anche sentendole io ho fatto una dormita clamorosa durante i mondiali allora c'è io dividerei un po i livelli c'è chi urla troppo c'è chi urla troppo non tenendo in considerazione il tipo di evento un conto è una finale mondiale un conto è la diciassettesima giornata della bundesliga un conto è bayern monaco dortmund un conto è appunto wolfsburg eintracht o hertha berlino werder brema poi c'è chi al di là dell'urlare o non urlare sciorina una lunga sequela di aneddoti nei momenti sbagliati se c'è una fase concitata o anche un risultato in bilico ma cosa vuoi che me ne freghi a me cosa ha detto la nonna il mese prima il giocatore tal dei tali che poi mi racconti la conferenza stampa di quando diceva che troppe informazioni troppe informazioni e infatti se voi ci fate caso provate a fare questo esperimento seguendo una partita quante di quelle informazioni vi restano anche tutti quei numeri messi così no la rinfusa 8 gol 27 assist 55 calcio d'angoli 92esima presenza consecutiva recording se tu non riesci a dare una fotografia di un'immagine di quello che di quella statistica di quelle il telespettatore che nel frattempo deve anche eseguire l'azione fa fatica in più lo destabilizzi come come e qui si riallaccia il discorso lo spettatore a mio modo di vedere veda destabilizzato da altre situazioni uno gli zoom gli zoom selvaggi che vengono fatti soprattutto alle regie italiane non da quelle estere da quelle italiane quando l'azione si avvicina nei 16 metri deve restare il campo largo è inammissibile fare lo zoom sul pallone sulle caviglie di del portatore di palla per poi staccare quando questi crossa o passa e ritrovarsi la palla in aria nel momento clou e non capire dov'è perché diventa elettricità pura quell'azione perdi il filo sei totalmente destabilizzato sui corner uguale zoom fortissimo sul battitore la regia stacca troppo sempre troppo tardi ti ritrovi la palla dove vedi vedi gente che salta però hai perso nel frattempo la direzione del pallone quindi bisogna sempre tenere il campo largo in quei casi soprattutto nei casi di azioni pericolose posso capire lo zoom a palla ferma su rimessa atelali su palla a centro campo quando l'azione ristagna anche lì io eviterei però posso capire ma nelle azioni clou e poi quando la palla in gioco bisogna tenere la telecamera sul campo non vai non andai sulla panchina a guardare l'allenatore che magari si scaccola o sul sul pubblico che con i fidanzatini che si danno i bacetti o queste amenità che nulla hanno a capire con lo con racconto sportivo è successo è successo per esempio che su una partita verona verona fiorentina il gol di birachi perso dalla regia perso dalla regia per che stava mandando un replay replay che in quel momento non aveva si aveva senso telecronaca fatta da tubo quindi non dallo stadio da tubo i telecronisti non sapevano cosa era successo birachi fa gol da centro campo il telecronista spaisato quindi parte che non bisogna fare telecronache da tubo ma quantomeno bisogna mandare lì gli inviati bordo campo e soprattutto chi fa la telecronaca perché può incorrere in queste situazioni sei 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 troppo legato all'immagine che ti restituisce la regia non hai la visione totale soprattutto questi replay gli zoom destabilizzano e questo fa parte di questa narrazione moderna che vuole un'eccessiva fornitura di notizie un eccessivo foraggiamento di aneddoti di storielle tutte diciamo contingenti tangenti all'evento e poi l'evento resta da solo resta orfano soprattutto il telecronista questo non lo dice pizzul ma interpreto io non può mai andare a sostituirsi all'evento deve accompagnare l'evento sportivo deve essere la ciliegina in più magari perché poi tu ricordi stringiamoci forte vogliamoci tutti bene ricorderai sempre con chi sei stato questa notte ricorderai il cele blu sopa berlino ricorderai sono 45 anni che l'inter sta aspettando questo momento quindi è una è una è un fattore importantissimo dell'evento sportivo ma deve essere da compagno da accompagnamento da ausilio che non c'entra con piero non deve essere il protagonista perché quando ti sostituisci all'evento sbagli se tu pensi da giornalista di diventare più importante dell'evento sportivo sbagli fai un torto a te stesso fai un torto allo sport ma soprattutto fai un torto a chi ti sta seguendo tanti auguri bruno pizzul un maestro delle telecronache il giusto equilibrio tra lo show business che c'è oggi e quello che ancora era veramente un calcio pane salame grande bruno un saluto è finita